Sono stazionari le condizioni dei due operai ustionati, rimasti coinvolti nell'incidente sul lavoro alla Chimet di Badia Alpino, si trovano ancora nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Donato di Arezzo e sono stati sottoposti a lavaggio polmonare. I due, un 39enne Aretino e un 35enne di Perugia, infatti oltre ad aver riportato ustioni, hanno anche inalato le polveri fuoriuscite da un filtro. Il terzo, un 52enne Aretino, è stato invece trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena a causa delle ustioni riportate. I tre stavano lavorando alla manutenzione di un filtro in un silos quando sono stati investiti dai vapori ad alta temperatura. Sono arrivati al pronto soccorso di Arezzo senza l'ausilio del 118. Non con mezzi propri, ma uno, anzi due, scusate, con il mezzo dei mezzi aziendali e uno invece con un mezzo proprio accompagnato, non credo, da un familiare. Da quello che mi viene raccontato ci sta che non ci sia stata subito la percezione di quelle che è stata poi le conseguenze di quello che è successo, però per noi è tutto molto molto prematuro. Un altro operaio della Chimet è finito invece in ospedale dopo essere stato colpito in testa da un condizionatore di 30 kg. In quel caso sono intervenuti sanitari del 118, due episodi quasi simultanei. Spetterà adesso alle indagini ricostruire eventuali collegamenti. Al lavoro i tecnici della sicurezza nei luoghi di lavoro della ASLA, assieme ad ARPAT, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Questa è un'azienda che a noi risulta essere all'avanguardia sul fronte della sicurezza, investimenti, formazione dei lavoratori, comunque era una manutenzione ordinaria che veniva regolarmente svolta. Quello che è successo verrà accertato dagli organi competenti, però al momento decideremo, ma non ci risultano negligenze particolari.